Vedete come si fanno le ciambelle e le bombe fritte che si fanno con lo stesso impasto dei cornetti che vi avevo detto anche l'altra volta, comunque la dose ve la ridico l'altra volta. Allora, un etto e mezzo di zucchero, un etto e mezzo di margarina, 10 grammi di sale, i profumi come vaniglia, se la potete mettere benissimo, un po' di aroma limone se ce l'avete, se no non fa niente, poi come lievito su un chilo di farina ci vanno sui 40 grammi, 4 uova e un chilo di farina quella forte, mettete tutto nel robotino, tutto insieme, l'acqua quanto basta sempre, l'acqua rimettete un po' alla volta, come se l'assorbi mettete l'altra fino a che viene un impasto abbastanza sostenuto, tanto è lo stesso di quello dei cornetti, poi metto il link sopra e lo vedete. Allora, adesso andiamo a fare le giambelle, prendo un pezzo di impasto, allo spessore di quasi un centimetro, deve essere bello spesso, poi con il coltello si tagliano delle strisce, per queste larghe, un centimetro e un centimetro e mezzo, si allungano in questa maniera, ecco fatto, si chiude qui, con un pizzicotto, si allunga un po' la pasta, queste poi andranno lievitate, devono raddoppiare il volume, e poi fritte che vi faccio vedere come si fa, allora queste sono le giambelle, per le bombe è più semplice, prendete uno stampino, tagliapasta, e sempre della stessa altezza delle giambelle, andiamo a stampare, vedete, queste sono ancora più semplici, e queste sono le bombe, vanno lievitate, raddoppiate di volume e fritte, adesso andiamo a friggere, andiamo a fare lievitare, poi le friggeremo, vi faccio vedere anche la temperatura dell'olio come deve essere, ci vediamo dopo, allora, ecco qua le nostre giambelle e bombe lievitate, vedete, si sono raddoppiate di volume, e adesso le andremo a friggere, allora l'olio deve essere olio di semi, di girasole, e deve stare sulla temperatura di 170 gradi, adesso le metteremo qua nell'olio, queste bisogna prenderle proprio con delicatezza, se no si rompono, e con una cucchiarella, col manico fino a fino, se no può venire pure del cuore, vedete come si va prendendo colore, vedete come si va prendendo colore, adesso le giriamo, se vedete che l'olio è troppo alto, ovviamente l'abbassate, tanto se sta a 170 gradi, lo fate rimanere così, allora poi andranno nello zucchero, proprio quando sono bollenti, perché se sono fredde, il zucchero non si attacca più, risolviamo, sono pronte, vedete come sono dorate, sono belle, quando vengono belle, perché si devono avere questa striscia qui, adesso andranno impanate nello zucchero, vedete come si attacca, perché sono bollenti, se aspettate che si fredda, non si attacca più, e per le bombe è la stessa cosa, soltanto l'unica differenza, è che dopo vado riempite con la crema, però la frittura e il procedimento, è sempre questa, e queste sono le ciampelle finite, a friggere diciamo che è semplice, mi raccomando quando fate l'impasto, che deve essere bello asciutto, io vi saluto, e ci vediamo al prossimo video, ed ecco anche le bombe, tanto il sistema è lo stesso, come dicevo prima, la differenza è che queste qua, sono riempite con la crema, o con la cioccolata, o come volete,